Eccoci di nuovo! Allora, dove cazzo dobbiamo andare? Di qua. Minchia, sta parte è difficile, Jimmy. No, non è un problema. Se tu dove stai giocando. Sta parte mi fa venire i brividi ogni tanto. I brividi! Ma forse dobbiamo andare prima all'altro piano, vero? No, lo so, devi seguire sempre la cosa, la freccetta, non mi so. Io non so manco cosa stai facendo in questo momento perché non riesco manco a leggere quello che c'è scritto. Guardate come fanno pure liscio quelli lì con i fucili. No! È un'altra, è un giro! No! È un giro! Non so quante volte si andava a mora anche a me inizio la partita. Da quando inizia questa campagna. Allora, mi ero dieci volte e ci sei andato, morente. Mi fate passare! Oh, Cristo Dio! È stato Cristo, eh, comunque. Minchia, adesso li devo inseguire! Adesso li devo inseguire, Jimmy. Mi ricordo, se non ci devi salvare gli ostacchi a questa parte qua. Ma questa non è cinese. Quella lì se la ci stai già incroppando, eh? Ma non è anche cinese. Perché non è tre persone bianche in Cina? Che cosa c'entra? Date un po' di spazio ai cinesi. Tutto ciò non si è a distanza di sicurezza dai tuoi uomini di squadra, tipo. Sempre attaccato, pure Pierce ce l'ho sempre attaccato e ti rianima, eh, non era una buona cosa. Dico, dovete seguire. No, non vai! Rianima di merda! Pierce, rianima di me. Io sono tuo fratello. Disse la gente che fa i porno sulle ruote. Oh, scusami. Ma ti volevo ingroppare, Pierce. Non c'è un'accegante, è fantastico. Che ne è che scappa. Oh. Forza, vai dal civile. Dove è? Dove c'è il scritto lì, 22 metri, così. Oh, God! Allora, insomma, si motta il ragno per questo. Avevo visto quello lì. Si capisce un cazzo, questo che va cazzo, sì. Claudio Salento. Ma è una scappa, speedrun! Tieni, my friend, ti ho salvato, my friend. Alfa HQ, 8th floor hostage security. Copio. C'è un altro sul primo floor. Comunque questo è il sesto piano, Chris, non vorrei dirtelo. Allora devi uscire. Nooo. Io so già qua cosa mi aspetta. Sì, sì, pure io, vai. Aspetta, fammi recuperare un po' i moni. Oh, dai, benissimo iniziare anche con Jack and Sherry. Mi avevo dovuto iniziare con Chris, perciò adesso... Jimmy, io lo so qua cosa mi aspetta, eh. Io non mi ricordo niente. Paura, Jimmy, io. All hostages on the 15th floor secured. Leaving the building now. Ah! Ok, that just leaves us. It's stopped. Now what? I can get through the ceiling if you give me a hand. Roger! Roger! Ma porca miseria, c'è bastarda. Niente, mi è successo una cosa qua sul cibare. Roger! Sì, ma vuoi recuperarmi le munizioni? Cristo Dio, madonna. No, minchia, ci sono quelli con i mitragliatori. Mi sento il sentimento che non siamo benvenuti qui. Come, puoi prendermi! Seguimi! Non no, guardiamo! Non no! oh ma quanti sono ci è grazie amigo un po' di verdello c'è qua ti vedo un pochino in crazy minchia jimmy non sai quanto mi sta venendo la peluria al culo scendere deve scendere da tolanzo questo è delta 1, clear of the building hq here, copy that this is delta 2, i'm clear of the building hq here, copy that alpha is still on premises, bombing will start once they're clear i'm going in, ready i'm on it first floor hostage security copy that alpha, now clear out of there come in hq, all hostages are ok, alpha team is clear copy that, commencing with bombing shit we're trapped, what the hell do we do now i don't know hq to alpha you can get out on the third floor there's a balcony on the west side of the building get moving alpha team, get out of there now preparations to bomb the building are complete planes have been scrambled we don't want to be here when those birds show up they've started bombing, they don't care that we're still in here it's not personal, you know the mission takes priority this building isn't going to last long i don't know i think they should go directly to the building i hope to get directly on the building Comunque è un cazzo mi ha chiuso che è basta Capitan Fin Anc Anc Fin episodio